Nei prossimi giorni chi andrà in una pizzeria di Treviso a gustarsi una buona capricciosa o una quattro formaggi troverà sul proprio tavolo questa tovaglietta. Sopra alcune importanti indicazioni sulla buona educazione alimentare rivolte a bambini ma soprattutto a genitori. Con lo slogan Nutrirsi bene e nutrirsi tutti saranno descritte in maniera riassuntiva le qualità dei cibi buoni e preziosi indispensabili per una dieta corretta. Pane, cereali, frutta e verdura, carne e pesce, latte e latticini. Si tratta del messaggio lanciato durante l'Expo di Milano da Unicef e accolto dalla Fipecof Commercio Trevigiana che ha voluto rilanciarlo prima della conclusione della grande esposizione milanese. Abbiamo deciso di partire con la diffusione capilare nel territorio di Treviso prima ancora che la grande fiera termini in maniera da essere tra i primi a rilanciare sul territorio il messaggio che è stato dato a Milano. Madrina dell'iniziativa e ambasciatrice Unicef, l'ex campionessa di sci Deborah Compagnoni, trevigiana d'adozione che spiega anche l'altro messaggio lanciato dall'iniziativa. Però abbiano una particolare attenzione anche ai bambini che non hanno la possibilità di sedersi a tavola e di poter mangiare. L'Unicef da sempre si occupa della malnutrizione. Significativa la scelta di portare le tovagliette proprio all'interno delle pizzerie. Le pizzerie perché è il luogo della famiglia, perché il pane è un cibo sano, lo stesso i latticini e il pomodoro o tutto quello che può essere posto sopra questo cibo che è uno dei cibi più diffusi. Anche la pizza ci è piaciuta l'idea perché è un messaggio che ci identifica come Italia anche in tutto il mondo e quindi ci è piaciuta l'idea di associare la pizza ad un messaggio di cultura, di alimentazione sana. Da dicembre nelle pizzerie che hanno sposato questa iniziativa si troveranno i volontari Unicef per raccogliere fondi a favore delle vaccinazioni nei paesi più poveri attraverso la vendita delle pigotte.